L'autorità per le garanzie delle comunicazioni deve avere la capacità di individuare quelle che sono le priorità di sviluppo creando delle regole e lo deve fare ascoltando gli stakeholders, quindi prima di tutto con un'indagine conoscitiva e poi successivamente con una consultazione pubblica, cogliendo da loro quelle che sono le suggestioni, i percorsi che insieme bisogna individuare per poter arrivare alla creazione di un mercato vero e proprio, mercato vero e proprio che quindi deve crescere e che deve favorire l'utilizzo dei servizi che sono il vero valore aggiunto, che sono il vero ancora una volta il contenuto e il re e la banda ultralarga serve per favorire la disponibilità di questi servizi, quindi attenzione a quelle che sono gli interessi e le necessità degli operatori, considerazione di quello che è un mercato che sta nascendo e poi soprattutto attenzione a quelle che sono le richieste dei cittadini e degli utenti consumatori, una sfida difficile ma che siamo convinti l'autorità così come in altre occasioni saprà vincere.